Sono ancora un po' un neofita dal punto di vista del triathlon, eppure sono già riuscito a centrare un risultato che ritenevo tecnicamente fattibile, ma era comunque un sogno, scendere sotto le 9 ore nella distanza Ironman. Barcellona è stato un po' il teatro di questa mia piccola impresa, un percorso certamente molto favorevole alle mie caratteristiche, soprattutto per quel che riguarda la porzione ciclistica, purtroppo decisamente avverso invece negli ultimi 42 chilometri della maratona dove ho faticato davvero tanto. In più la sofferenza per la parte in su sterrato che era riservata a tutti gli atleti, le difficoltà tecniche del percorso visto quanto stretto era in certi passaggi, tra l'altro da ripetere tre volte, quindi il terzo giro, mentre continuavano ad entrare atleti che arrivavano un po' più in ritardo rispetto a chi stava davanti, c'era davvero tanta gente e logicamente per me, come tutti gli atleti paralimpici, disputo quella gara, quella porzione su ruote è stato particolarmente complicato. Essere riuscito a centrare quello che era il mio obiettivo della vigilia, ovvero scendere sotto le 9 ore di così poco, non solo ha dato dramma ad una gara che per rock fortunatamente nel mio caso si è risolta benissimo, ma anche, come posso dire, emotivamente parlando, restituito al sottoscritto e ai miei amici che mi attendevano al traguardo, una soddisfazione enorme che pochi attimi prima sembrava un po' essere svanita, sembrava essere svanita la possibilità e invece alla vigilia, almeno nella mia testa, doveva essere quasi scontata. Quindi è stato un momento molto bello e emozionante che spero di poter rivivere a breve.